Buongiorno, però io non vorrei portare io la nomina e non volesse essere sempre umanamente oppure noi che ci lamentiamo, però bispizzi guardatevi un po' questo pulmone, ma questo è un pulmone pulito secondo voi, guardate un po' questi spieghi, guardate questi cartoni, guardate tutt'anno, cioè io mi metto proprio in scuola, ma questo è un pulmone secondo voi, guardate che coppia che c'è, io si passano a ritorno, guardate che ritorno come si fa, c'è, ecco guardate, guardate questo dito, ma che sei, c'è chi sei un pulmone, ma tu, il bug, guardate qua, io ho vergogna di guidare, io ho proprio vergogna, ho vergogna di guidare con questo autobus, ma poi vi faccio vedere la cosa più bella, a parte questa qua della sicurezza, in questo punto qua, qua, lo vedete questo, qua c'è da sanuspeccio, che collegamento pensano, non portano poco, questi spieghi, a me serve per vedere, le persone se stanno nella porta centrale, per non far succedere guai, questa è sicurezza, ma la cosa bella, guardate qua, questi cosa si sono permessi di fare, cioè il senatobus, raggiungo, mi portano la gente, non è un camion per portare brutto, ma come si fa a fare una cosa del genere, come si fa, io non lo so, comunque buona giornata, io non so che fine stiamo facendo, non lo so, ci va dire, buona giornata, scusate del disturbo che vi do tutti i giorni, e spero che la mia anima un giorno riposi in pace, riposi in pace, ma secondo me, qua farà una guerra a vita, guardate per questi spieghi, che vorrei dire qualcosa di andare sui spieghi, ecco qua, questa è la mia realtà di tutti i giorni, di tutti i giorni è fatiglio, ma di che vogliamo parlare, di che vogliamo parlare, di che vogliamo parlare, statemi bene. Grazie.